Buonasera, tra poco vi racconteremo un'altra giornata nel nostro telegiornale, una giornata che politicamente si è aperta poco fa per le attese che ci sono in quel famoso oramai convento in provincia di Siena dove il premier Enrico Letta ha portato i ministri per fare spogliatoio, per fare squadra, così ha detto Enrico Letta. Che cosa vuol dire questo? Naturalmente il campionato è finito, non è un torneo di ritorno ma è un mettere i ministri attorno a un tavolo senza altre distrazioni, portavoce, portaborse e parlare dei temi, dei temi importanti e quindi già trapelato si parlerà non solo delle riforme istituzionali ma anche dei problemi più urgenti evidentemente che vanno dall'Imu alla Cassa Integrazione e sicuramente in generale alle questioni del lavoro. Sono arrivati, sono partiti intorno alle 4 di pomeriggio, tutto in stile rigorosamente sobrio, i ministri a bordo di alcuni pulmini, come vi dicevo senza nessun accompagnatore ufficiale e si pagheranno il soggiorno da soli. Intanto però è trapelato qualcosa ed è qualcosa che evidentemente ha a che fare con quanto accaduto ieri a Brescia e con le tensioni che si sono scatenate con un botta e risposta che anche stasera vi racconteremo tra il PD e il PDL. Letta e Alfano sono arrivati insieme in questa abbazia e poco dopo il loro arrivo è stato annunciato che è stata presa una decisione, una decisione comune evidentemente a quanto ci risulta in un confronto anche abbastanza acceso, comunque netto e contrapposto nelle posizioni e dunque si è deciso che i ministri non parteciperanno più fino alle amministrative a manifestazioni di piazza e a dibattiti radio televisivi a meno che non siano strettamente legati al lavoro del loro di Castero. E quindi questo già è un punto, poi naturalmente vedremo in queste prime ore perché sono già a lavoro e si attende un primo punto stampa intorno alle otto e mezzo, nove, dei ministri che sono in questa abbazia che poi continueranno a lavorare domani fino all'ora di pranzo. Vi dicevo che in parte questo si lega a quello che è successo ieri e alle ripercussioni che ci sono oggi, alle polemiche che continuano anche oggi per la manifestazione di Brescia del PDL, per lo scambio di accuse. Sapete che il PD per l'appunto ha detto che non era opportuna la presenza di ministri in quella piazza, una piazza che poi è stata trasformata in parte in un duro attacco contro le toghe. Oggi c'è stato anche il richiamo del Quirinale al rispetto delle toghe, però il PDL non ci sta. Il PDL parla appunto di una parte della piazza che ha attaccato, che è una piazza violenta, e dice così come ha detto Brunetta, dietro quella violenza c'erano le bandiere di Sinistra Ecologia e Libertà. E quindi chiede al partito di Nichi Vendola di in qualche maniera dire qualcosa su questa responsabilità. Vendola ha risposto che il partito che Sinistra Ecologia e Libertà assolutamente è contro ogni tipo di violenza e che non c'entra nulla. Però il clima comunque rimane acceso, però lo abbiamo visto, è un governo delle larghe intese, e quindi è un governo che vede insieme al lavoro il PD e il PDL e quindi è gioco forza che o il clima torna sereno e rientra per così dire nei ranghi, oppure come qualche esponente, come Fassina ha detto oggi, sarà molto difficile andare avanti e poi confrontarsi anche su temi importanti sui quali le posizioni sono nettamente differenti. Lo erano anche prima che nascesse questo governo di larghe intese, ma insomma adesso potrebbe la situazione peggiorare. Poi naturalmente c'è anche il giorno dopo del Partito Democratico, che ieri ha eletto il nuovo segretario, Epifani, che ha detto anche Epifani, il PD deve ripartire da zero, ma soprattutto deve imparare a dialogare con la rabbia della gente. Poi tante notizie, anche una molto molto buona, il trionfo delle Ferrari. Adesso i titoli. Il governo in ritiro, partenza in pullman da Palazzo Chigi, i ministri da oggi fino a domani pomeriggio nell'abbazia di Sarteano, in Toscana. Letta arriva con Alfano e insieme concordano. Da qui alle elezioni amministrative i membri del governo non parteciperanno a manifestazioni elettorali né a dibattiti radio e tv che non siano incentrati sull'attività dell'esecutivo. Ancora polemiche sulla presenza di Alfano e due ministri alla manifestazione anti-magistrati della PDL. Il PD e le opposizioni attaccano un atto inopportuno. Gialmini difende il PDL manifestare legittimo. Critiche surreali e Brunetta rovescia l'accusa. Piuttosso Boldrini e Vendola condannino i violenti contestatori di Brescia. Vendola però replica tra noi non ci sono violenti ma critici del berlusconismo sì. E proprio sulla giustizia il Quirinale dopo gli appelli dell'Associazione Nazionale Magistrati e del CSM invita al rispetto del ruolo costituzionale delle toghe. Domani a Milano riprende il processo Rubi con la requisitoria della procura. Il PDL sposta la riunione dei capigruppo da Milano a Roma. E sono gravissimi due dei cinque passanti feriti ieri per strada a Milano da un cittadino ganese armato di un piccone. L'uomo clandestino in Italia è in attesa di una sentenza del TAR sulla sua richiesta di asilo politico rinchiuso a San Vittore. Il caso però diventa un caso politico. I cittadini contestano un presidio della Lega in difesa della Bossi Fini. E' molto critico sulla proposta del ministro Chiange di riformare il diritto di cittadinanza. Il PD a fianco della ministra. E preme l'emergenza sociale sul lavoro. La CGL rilancia il tema del blocco degli aumenti per i 3 milioni e mezzo di dipendenti statali. Dal 2010 si sono persi 3 mila euro di mancato adeguamento delle buste paga. Un risparmio per lo Stato di circa 10 milioni di euro. Poi i sindacati chiedono al ministro Giovannini di prorogare i contratti ai precari per evitare che le cifre della disoccupazione giovanile crescano ancora. Fantastica gara della Ferrari di Alonso. Profeta in patria sul circuito di Montmelò a Barcellona. Il pilota spagnolo domina e vince tra gli applausi grazie ad una partenza da manuale. Le due rosse a lungo prima e seconda. Poi Rijonen supera massa e si piazza secondo. Fettel è quarto e mantiene la leadership del mondiale. Ma la stagione è riaperta e i tifosi di Maranello tornano a sognare.